ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi vi farò vedere come colorare le vostre biciclette tranne le biciclette da forza allora innanzitutto andiamo a comprare una bicicletta io in questo caso compro la bmx però funziona con tutte le bici non da corsa allora in primis ricordatevi quello che c'è scritto sulla barra degli indirizzi cioè detail 3 che vi servirà inserito detail 3 in caso della bmx e poi in caso di altre bici insomma provate voi dopodiché andate a san andrea e non san andreas su gratus che cazzo sta dimasano picciato andate a dove se compra un auto delusso andate per la terza auto la mamba selezionate il colore ma non l'acquistate dopodiché ritornate sulla barra degli indirizzi e selezionate detail 3 e date acquista e automaticamente avrete la bicicletta del colore che avete scelto nella schermata della mamba io in questo caso l'ho scelta verde verde che in pratica mi viene verde lime però questo solo super session 4 perché super session 3 viene in verde del cazzo brutto un po' da vedere e niente abbastanza semplice questo sorta di glitch funziona per tutte le bici non da corsa ragazzi non da corsa significa che non hanno stickers cazzate varie insomma che non c'hanno le ruote particolari e altre stronzate insomma e quindi niente non potete fare con la scorcher lo potete fare la scorcher sarebbe la mountain bike che lo potete fare con la bici da passeggio e lo potete fare anche con come cazzo si chiama con la bmx quindi è abbastanza facile da fare che dire niente cioè il passaggio è semplicissimo dovete fare solo quello che ho fatto io nel video una volta che siete nella schermata delle biciclette che andate per comprare qui la bicicletta tornate indietro tornate indietro premendo giustamente la home andando sulla casina della home dopo che siete andati sulla casina della home andate leggendari motosport la mamba selezionate il colore tornate sull'orologio di cronologia come avete visto io ve lo sto rispiegando almeno capite bene e una volta tornati sull'orologio di cronologia comprate la cazzo di bicicletta di merda che voi volete io in questo caso come vi ho già detto ho preso la bmx poi in seguito ho preso anche altre mici che so qui le ditte colorate quindi niente ragazzi per questo video è tutto per questo glitch è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti